ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi vi voglio parlare di questo fondotinta di astra makeup che vi ricordo che un marchio low cost e made in italy reperibile online su vari siti alcuni mi dicono che lo trovano anche dai cinesi oltretutto è un made in italy ed è prodotto in italia misteri ma non ci addentriamo oltre ed oggi vi voglio parlare di questo fondotinta che astra transformist foundation concealer quindi correttore e fondotinta dice di essere un super coverage semi matt finish eccolo qua il colore che mi hanno mandato è il numero 02 e vediamo cosa dice fondotinta e correttore due in uno ideale per ottenere un look naturale e levigato la texture altamente sfumabile aderisce alla pelle minimizzando le imperfezioni grazie alla sua elevata coprenza è molto lunga la descrizione e va bene ok allora apto 16 ore quindi dura per 16 ore 18 ml mi sono segnata il prezzo 9 euro e 90 dunque prima di tutto veniamo all'applicatore che è molto particolare perché è un è un grosso pennello da correttore è grosso allora io l'utilizzo solo su di me ma sinceramente applicarlo così con il pennello non mi piace quindi lo metto sulla mano tanto ne esce abbastanza e poi dopo ho provato vari utilizzi si applica bene con le mani tranquillamente con la blender e con il pennello quindi vedete anche il test ma da questo punto di vista niente da dire ve lo mostro che è questo qui ok allora dunque intanto è disponibile in davvero tanti colori dice di essere un fondotinta più correttore super coverage quindi ultracoprente effetto semi matte dunque 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 vi ricordo che io la pelle mista ma l'ho messo davvero a test non per 16 ore ma comunque l'ho messo a test e lo vedete anche nella clip le varie clip che ho fatto primer su tutto il viso fondotinta e poi dopo su metà viso ho messo il correttore e sull'altra metà no per vedere come si comporta durante la giornata intanto ha una texture abbastanza cremosa si stende bene ed è non fa striature una volta asciugato non ossida quindi il colore non vira cosa che è importante ma veniamo alla coprenza perché dice di essere anche correttore lo avete visto anche voi correttore quotidiano perché no se non avete troppe occhiaie ad esempio può andare a coprire soprattutto se l'andate applicare con le mani perché con le mani è davvero è più coprente con il pennello a una media coprenza con la blender ovviamente la spugnetta si mangia più prodotto ed è quindi l'effetto è davvero più naturale però è stratificabile e non fa macchie ed è davvero su questo mi piace come correttore diciamo che io applico il mio correttore abituale e poi vado a uniformare con questo in questo caso uniforma questa super super coprenza l'ho vista per alcune cose intanto non è pesante sul viso perché anche sulla mia pelle mista non mi ha creato problemi quindi non è come gli altri correttore mascara ci arriverò a dire fondotinta non è come gli altri fondotinta super super coprenti e super ricchi questo è coprente sì ma non cremosissimo e non super ricco quindi adatto anche perché ha la pelle mista o grassa o non vuole un palotto pesante sul viso si copre ma copre le leggere discromie gli rossori non va a coprire ovviamente delle macchie del viso non va a coprire le imperfezioni su questo bisogna lavorare con dei correttori più specifici però è un buon fondotinta adesso comunque vi faccio vedere le varie clip di test ma ad esempio anche applicato con le mani per tutti i giorni va a uniformare perfettamente il viso ma ora basta parlare e vediamo il test ciao allora proviamo questo fondotinta ho messo il primer su tutto il viso e direi che da coprire ce n'è un sacco ma noi lo proviamo è così ed ecco qui allora se in alcuni punti vogliamo più coprenza esempio qui qui ok invece del pennello usiamo la blender ok ora metto il correttore allora questo è il risultato niente male cipria e pennello questa è lista fix ma di rim che ho quasi finito cipria e pennello cipria solo su un lato qui sì qui no per vedere come si comporta primer su tutto il viso cipria solo di qui col pennello sporco ma la cipria è chiusa vado a fermare un attimo anche di quanto per uniformare ma c'è la differenza allora iniziamo il test sono le 11 e 38 e vediamo come si comporta durante la giornata sulla mia metteci qua col primo aggiornamento allora 16 e 20 dunque fondotinta dice di essere fondotinta correttore succo per coprente semi matt finish a me non dispiace per niente è abbastanza opaco allora qua è completamente opaco di qua un pochino meno ma considerando che sono stata in giardino a fare dei lavori credo che sia perfetto unica cosa sono imperfezioni ho notato che un pochino svanisce ma ci sta ma ci sta in quattro ore e mezza comunque vediamo ok così togliamo l'eccesso direi perfetto in quattro ore perfetto considerando che qui è svanito un pochino ma non c'è la cipria mentre di qui sì e poi possiamo fare un ritocco anzi lo facciamo assieme ritocchiamo senza mettere il prodotto solamente con il pennello anche sporco di fondotinta e poi con la spugnetta e noi così ci possiamo fare altre ore ci vediamo più tardi con l'ultimo aggiornamenti alle conclusioni finali per questo fondotinta astra transformist allora sono le 20 e 12 quindi direi che le ha fatte non 16 ore come promesso ma il tempo c'è le imperfezioni si vedono però considerando che non ho toccato niente con cipria senza cipria cartina alla mano posso dirvi che il lato del naso un pochino di qua un pochino di più però neanche tanto e ragazzi sono stata tutto pomeriggio tutto pomeriggio a fare dei lavori in cortile c'è vediamo forse qualcosina in più esatto beh sì ci sta ma sì ma aspettate provo oltretutto non ha creato macchie cioè la pelle si sente forse lo vedete anche come scorre lo vedete come scorre vedete che qui scorre meglio e qui un po più però considerando il prezzo direi che e niente questo era tutto direi che senza dire niente vale alla grande e noi ci vediamo al prossimo test allora avete visto anche voi che si comporta davvero bene cioè considerate che è un fendotinta low cost ed è davvero da 9 euro e 90 l'inci aspettate che lo guardo perché non me lo ricordo non ha siliconi quindi anche questo è valido è un prodotto che si trova facilmente nella grande distribuzione un po' da vari marchi a proposito l'ho visto anche online dalla profumeria sabbioni davvero un po' ovunque e perché no non ma perché no nel senso sì ci piace perché no e oggi è così sentirò il tempo fondotinta che mantiene le promesse non completamente ma le mantiene oltretutto è un bad in italy mi è piaciuto mi è piaciuto davvero se voglio un look più naturale lo uso con il pennello la blender se no ed è un più coprente con le mani l'unica cosa è questo applicatore che si bello ma non mi piace perché non è per niente igienico e non mi piace da applicare sul viso in questo modo ma lo applico sulla mano che neanche questo è proprio igienicissimo ma se prima mi lavo le mani le mani sono pulite speriamo no ed è si potrebbe anche ho provato da questo prodotto prenderlo con il pennello però è sempre il fatto che va a contatto allora è meglio lavarci le mani oggi ti pone sull'igiene però è il periodo di igienizzante ci laviamo le mani con le mani pulite applichiamo il prodotto sulle mani e poi lo andiamo a prendere con le mani con il pennello con la blender come volete ma applicatelo non con questo quindi signori dell'astra se rifate la confezione con un applicatore diverso mi piace ancora di più comunque stra consigliato le mantiene le promesse e avete visto che anche sulla mia pelle mista durante il giorno lo possiamo anche andare a ritoccare oltretutto ci rucidiamo un po di più ok puliamo l'eccesso di sebo di sebo andiamo a riniformarlo con le mani o con una spugnetta e poi lo riapplichiamo non fa macchie mi piace mi piace davvero ed è ve lo straconsiglio fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come si trovate io come sempre spero di stata utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricordi di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao ciao